MISERICO 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 Anche grazie alla forza divina, quando vengono a conciliarsi queste due cose, io penso che si può raggiungere la guarigione. Tu la forza di volontà ce la stai mettendo? Sì, sto facendo di tutto proprio per uscirne fuori, insomma, perché da quattro anni sto lottando contro questo brutto mostro, l'uomo cancro, diciamo. E domani, magari, il Papa è proprio il punto, diciamo, divino sulla terra, è la rappresentazione divina sulla terra, quindi, diciamo, è bellissimo, sarà bellissimo. E io, che sono molto credente, diciamo che sono molto felice, molto contento di incontrarlo. Così arriva il giorno della visita. Il Papa entra nel reparto, anche nella stanza di Mirko, che gli si getta i piedi, ma perché? Cos'è scattato in lui? Sono entrato nella stanza, appena ho visto il suo volto, le gambe non mi leggevano più, sono crollato dai suoi piedi e l'ho stretto più forte che potevo. Più c'era da stringere, più stringevo. Ed è stata un'emozione davvero unica. Mi sono commosso e mi sono asciugato, diciamo, le lacrime, asciugato lo suo mantello. E lui, in pratica, c'era qualcuno che mi diceva che stai facendo. Lui ha detto, lascialo sfolgare, mi porterò le sue lacrime con me. E io, veramente, è stata un'emozione davvero unica, che porterò con me per sempre, per tutta la vita. Commovente l'accostamento fatto su Facebook con il dipinto di Rembrandt. C'è da dire che Mirko, con la sua fede salda come roccia, a differenza del figlio al prodigo, non si è mai allontanato dal padre, stringendosi a lui in ogni momento, soprattutto in quelli più difficili e non sono stati pochi. Una lezione di fede, che si intreccia alla teologia della tenerezza, espressa da Francesco, con un gesto semplice e insieme straordinario, come un abbraccio. Sarà per questo, caro Mirko, a cui auguriamo la pronta e definitiva guarigione, che in quel tuo inginocchiarti, ciascuno di noi ritrova se stesso con i propri guai e quella sete indicibile di affidare le proprie lacrime come un figlio all'amore del padre.